Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca, un arresto a Catania, si tratta di un 52enne violento accusato di maltrattamenti e stalking nei confronti dell'ex moglie, dell'ex compagna e dei figli. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Su disposizione della procura di Catania, la polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale Etneo nei confronti di un 52enne per maltrattamenti, minacce, stalking e distorsione nei confronti dell'ex moglie, della figlia, dell'ex compagna e del figlio. Le indagini del commissariato centrale avrebbero fatto luce su una serie di episodi ai danni dei familiari commessi dall'uomo con aggressioni verbali e fisiche per cosse, ingiurie e minacce di morte. Per questi reati, commessi nei confronti dell'ex moglie, al 52enne era stato applicato un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Catania. In una successiva circostanza, il soggetto aveva puntato una pistola alla testa della donna dicendole ti ammazzo e aveva aggredito con un ferro da stiro il figlio che era intervenuto in difesa della madre. Per questo, l'uomo era stato sottoposto al provvedimento di allontanamento da casa con divieto di avvicinarsi alla moglie e ai figli e alla misura della sorveglianza speciale e all'applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini hanno permesso di ricostruire ulteriori condotte aggressive tenute nei confronti di un'altra donna, la sua ex compagna. Sceso dall'auto impugnando una mazza acchiodata, ha cercato di colpire lei e l'uomo che era in sua compagnia. L'intervento di un passante aveva evitato il peggio, nel frattempo una volante della polizia era riuscita a bloccarlo e poi lo ha denunciato. Un altro episodio risale ad alcune settimane addietro, quando il 52enne, incontrando per strada l'ex compagna, si era fermato per tentare di parlare con lei, ma durante la conversazione era andato in escandescenza per motivi di gelosia, colpendo la donna con un pugno al volto. Alla luce dei fatti, il GIP, su richiesta della procura, ha disposto nei confronti dell'uomo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Cambiamo decisamente argomento. A Taormina c'è preoccupazione per l'avvio dei lavori della cosiddetta talpa, che servirà per la realizzazione del raddoppio ferroviario. Il problema, più che altro, è legato alla viabilità nella frazione di Trappitello. Sentiamo Mauro Romano. Assessore Giuseppe Sterrantino, lei sta seguendo in questi giorni il problema della viabilità di Trappitello in funzione dell'avvio dei lavori della talpa ferroviaria. Ecco, cosa abbiamo previsto, Assessore? Nelle giornate scorse abbiamo avuto un incontro insieme all'esperto del simile, l'ingegnere Brogato, con i vertici della società, del Consorzio Messina Catania Nord, che stanno avviando, hanno avviato i lavori per il raddoppio ferroviario, su quello che è il tema della viabilità, che molto ci sta a cuore. Il flusso veicolare è molto aumentato, quindi abbiamo chiesto almeno di garantire le fasce di rispetto dalle 7.30, 9.30, 12.30, 14.30, che è il periodo di maggior afflusso di mezzi anche dovuto all'apertura delle scuole e all'uscita delle scuole. Questo nel corso di questi giorni è stato effettuato, con il nostro grande piacere, e quindi spirito di collaborazione con la società che sta gestendo questi lavori. A breve si aspetta l'avvio effettivo dei lavori della Talpa, quindi con una quantitativa di terra che verrà tirata fuori dalla galleria, che non farà altro che aumentare i viaggi che questi mezzi dovranno effettuare. La preoccupazione sta nel fatto che ad oggi la famosa rotatoria che bisognerà costruire davanti al cantiere e la strada di cantiere che servirà ad evitare che questi mezzi continuino a passare lungo l'abitato di Trapidello purtroppo ad oggi non è ancora pronta. A breve cercheremo di ridiscutere i termini affinché si possa garantire il passaggio di questi mezzi in notturna e evitare quindi un maggiore aggravio di mezzi pesanti nel centro abitato di Trapidello. Ci spostiamo virtualmente a Catania. Parliamo di un importante incontro tra l'Associazione Antimafia e Legalità e una rappresentanza del Presidio Universitario di Libera. Si parla di una futura collaborazione. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. L'Associazione Antimafia e Legalità ha ricevuto nella propria sede una rappresentanza del Presidio Universitario di Libera, UNICT, Dario Capolicchio. Un importante incontro per una possibile collaborazione in futuro. Due realtà che perseguono gli stessi obiettivi. È stato un costruttivo e stimolante confronto soprattutto su alcune delicatissime tematiche quale l'antimafia e la cultura della legalità. Sono stati già decisi infatti alcuni importanti progetti da realizzare come la passeggiata della legalità che si realizzerà a ottobre. Antimafia e Legalità opera sul territorio per contrastare tutti i fenomeni mafiosi di qualunque genere, nonché in particolare l'usura e l'estorsione e la corruzione politico-amministrativa. Riteniamo che con i giovani universitari di Libera possa esserci veramente una sinergia non solo di valori comuni ma anche di operatività. Questa esperienza sarà sicuramente interessante. L'incontro di oggi io lo ritengo estremamente positivo. Sono convinto che darà buoni frutti. Libera, più precisamente l'associazione in nome e in numero contro le mafie è un'associazione che ormai nasce, si afferma da tanto tempo sulla scia di quelle che sono state le stragi, diciamo il periodo delle stragi quindi 92-94, le stragi fino ad arrivare poi al 95 quando poi effettivamente nasce. Quella che è la nascita di Libera si accompagna a una serie di temi come quella che è la legge sulla confisca dei beni, alle mafie quella che in generale è la lotta alla mafia sotto vari aspetti e vari profili che tuttora nei suoi temi continua a continuare. Quindi i temi della confisca ma non solo, anche i temi della formazione tutti i rami che Libera in tutto il territorio nazionale e internazionale continua a portare avanti. Allora proprio perché Libera è un'associazione di associazioni noi conosciamo da parecchio tempo la realtà di antimafia e legalità soprattutto per come opera sul territorio catenese abbiamo deciso di far nascere questa collaborazione per agire sicuramente in maniera più netta ed incisiva su vari fronti per poter appunto collaborare in varie attività che siano appunto i percorsi di legalità in generale che riguardano la cultura e la legalità quindi l'educazione anche alla cittadinanza attiva oltre che alla legalità ma che può riguardare collaborazione che può riguardare gli incontri con le scuole i percorsi della legalità che nascono appunto dall'associazione antimafia e legalità. A Custonacci la giornata tricolore si è parlato di autonomia differenziata e premierato vediamo il servizio. L'autonomia differenziata e il premierato hanno dominato il dibattito della dodicesima giornata tricolore svoltasi a Custonacci l'evento organizzato dal centro studi Dino Grammatico con il patrocinio della Fondazione Alleanza Nazionale ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e culturale italiano tra i relatori il senatore Mimmo Nania l'onorevole Michele Rallo l'onorevole Livio Marocco l'onorevole Giuseppe Bica e Massimo Magliaro lo scrittore e giornalista Alberto Samonà ha moderato i lavori stimolando un confronto vivace e costruttivo il tempo della responsabilità tema centrale dell'edizione ha offerto lo spunto per analizzare le sfide che l'Italia sta affrontando il dibattito sull'autonomia differenziata ha messo in luce la complessità della riforma i sostenitori hanno enfatizzato i potenziali benefici di una gestione più efficiente delle risorse a livello locale mentre altri relatori hanno sollevato preoccupazioni sulla possibile frammentazione dell'unità nazionale e sull'aumento delle disparità territoriali il premierato, d'altro canto, ha raccolto un consenso più ampio la proposta di rafforzare il ruolo del presidente del Consiglio è stata vista come un passo verso una maggiore stabilità governativa e una più diretta responsabilità dell'esecutivo un momento di particolare rilievo è stato l'annuncio dell'assegnazione del premio per la cultura della legalità a Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino il riconoscimento segna l'importanza del suo impegno nella lotta alla mafia e nella promozione della legalità come ogni anno il Centro Studi Dinogrammatico organizza la giornata tricolore ed è un momento di riflessione da parte di un mondo culturale, umano che si rivede di anno in anno siamo già alla dodicesima edizione ogni anno ci sono delle riflessioni che portiamo a seconda del tema attuale quest'anno per ovvi motivi tutto ricalca sull'aspetto del premierato sulla riforma in essere dell'autonomia differenziata con tante spaccettature, tante visioni e quindi è un momento di confronto, di dialogo e di riflessione che ci porta a sviluppare noi stessi e comunque a diffondere delle opinioni dove magari possono essere fonte di ricchezza riflessioni importanti da sviluppare, da portare avanti ed è una proiezione che di anno in anno ci preganciamo Giardini Naxos è tornata in attività con l'avvio dell'anno scolastico la scuola Abbate Cacciola Mauro Romano ne ha parlato con l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Giardini, Giuseppe Leotta sentiamolo Ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Giardini Naxos, Giuseppe Leotta oggi ci troviamo davanti alla scuola Abbate Cacciola ma cosa accade? Sì, personalmente ho voluto aspettare un po' che si placasse il clamore mediatico sulla vicenda innanzitutto voglio esprimere la mia personale soddisfazione per la riapertura del plesso dopo un anno trascorso fra finte inaugurazioni fra motivazioni accampate una dietro l'altra che erano state usate nell'amministrazione per giustificare la mancata apertura della scuola finalmente la scuola dei giardinesi è stata riconsegnata alla comunità quello che volevo sottolineare è che questo traguardo è un traguardo che questa nuova giunta ha già trovato apparecchiato se così si può dire da chi ha gestito precedentemente la cosa pubblica in particolare dall'assessore Talio l'ex assessore alla cultura che ha fortemente voluto questa riapertura l'assessore Cacciola e anche dal sottoscritto che lo voglio ricordare con forza abbiamo difeso la scelta fatta all'inizio dell'amministrazione Straguzzi con tutti i limiti con tutti gli errori che si possono che possiamo aver commesso nei primi due anni e mezzo comunque abbiamo fatto una scelta consapevole che era quella di destinare i fondi all'efficientamento energetico integrati da fondi comunali per la riapertura di questa scuola e parliamo di circa 600 mila euro con cui si è sostituito completamente il tetto che aveva delle forti problematiche sono stati cambiati i controsuffitti gli infissi e tanti altri lavori svolti all'interno della scuola col senno di poi mi sento di dire che questo è uno dei pochi lasciti che questa traumatica e travagliata esperienza amministrativa ha dato alla comunità giardinese e lo ribadisco è stata da parte nostra una scelta consapevole investire sulle persone su quelli che saranno i cittadini di domani in un contesto purtroppo sempre più caratterizzato da un deserto di valori politici e morali investire sulle scuole significa investire sul futuro della comunità domani la giornata internazionale del caffè e allora la celebre bevanda viene celebrata in tutto il mondo festa il primo ottobre in tutto il mondo per celebrare la giornata internazionale del caffè l'appuntamento è festeggiato con i 77 stati membri dell'organizzazione internazionale sul caffè e le associazioni del caffè da tutto il mondo con l'international coffee day 2024 l'organizzazione internazionale sul caffè invita il settore ad abbracciare la collaborazione per un'azione collettiva con il messaggio il caffè, il tuo rituale quotidiano il nostro viaggio condiviso il tema della campagna e del messaggio è quello di sottolineare l'importanza di abbracciare la collaborazione per un'azione collettiva e il suo ruolo nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile nel settore globale del caffè la campagna è costituita da video, poster a cartoline disponibili in varie lingue che ritraggono visivamente esempi di collaborazione per l'international coffee day si può utilizzare l'hashtag ICD2024 il report dell'ICO certifica che le esportazioni mondiali di caffè ammontavano a 11,29 milioni di sacchi a luglio 2024 rispetto ai 10,6 milioni di luglio 2023 le esportazioni nei primi 10 mesi dell'anno caffèicolo 2023-2024 sono aumentate quindi del 10,5% a 115,01 milioni di sacchi rispetto ai 104,05 milioni di sacchi nello stesso periodo del 2022-23 nei 12 mesi conclusi a luglio 2024 le esportazioni di Arabica ammontavano a 82,26 milioni di sacchi rispetto ai 74,37 milioni di sacchi dell'anno scorso mentre le esportazioni di Robusta ammontavano a 51,62 milioni di sacchi rispetto ai 49,75 milioni dell'anno precedente in Italia, secondo l'Istituto Espresso Italiano oltre il 73% degli italiani beve regolarmente il caffè ogni giorno e si bevono complessivamente 95 milioni di tazzine di caffè al giorno quasi una media di 1,6 a persona l'Istituto segnala inoltre che secondo l'area studi Mediobanca nel mondo sono 3,2 miliardi le tazzine bevute ogni giorno valore stimato in crescita a 3,8 miliardi di tazzine entro il 2030 Nell'Unione Europea si sprecano 132 kg di cibo all'anno per abitante Nel 2022 nell'Unione Europea sono stati sprecati circa 132 kg di cibo per abitante In totale l'Unione Europea ha generato 59,2 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari che comprendono parti commestibili e non commestibili Lo riporta l'Eurostat secondo cui i dati rifiuti domestici rappresentano il 54% di tutti i rifiuti alimentari l'equivalente di 72 kg per abitante Il restante 46% è costituito da rifiuti generati a monte della filiera alimentare il 19% dalla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande l'11% da ristoranti e servizi di ristorazione l'8% dalla vendita al dettaglio e da altre attività di distribuzione di alimenti e sempre l'8% dalla produzione primaria Parliamo ancora di cibo, il clima mite favorisce le coltivazioni e sono delle coltivazioni di qualità Andiamo allora a vedere quali sono gli alimenti convenienti in termini economici in questo periodo dell'anno Finita la stagione di anguri e meloni tornano sui banchi dei mercati noci, mele e cachi L'autunno è arrivato anche alla borsa della spesa Il clima è più mite, spiega BMT, sta favorendo tutte le coltivazioni tipiche di questo periodo assicurando una corretta maturazione dei prodotti e una buona qualità Tra le più convenienti l'uva da tavola che quest'anno presenta una buona qualità nonostante il caldo torrido degli scorsi mesi Tra le diverse varietà l'uva Italia al momento è la più conveniente disponibile all'ingrosso intorno ai 2 euro al chilo Immancabili in questo periodo i cachi di buona qualità e con prezzi regolari che vanno da 1,30 euro a 1,50 euro per la varietà vaniglia Mentre all'ingrosso sono disponibili in grandi quantità le noci fresche intorno ai 3,54 euro al chilo Infine continua a regolare la campagna delle mele Royal Galà iniziata qualche settimana fa con prezzi intorno a 1,50 euro al chilo Per quanto riguarda gli ortaggi, spazio alla zucca protagonista indiscussa di questo periodo, molto richiesta per la preparazione di zuppe e piatti caldi e a prezzi davvero molto convenienti che oscillano da 0,80 centesimi a 1 euro al chilogrammo per la varietà lunga violina e con l'avvicinarsi di Halloween nelle prossime settimane saranno presenti anche le varietà ornamentali Via libera anche al porro, disponibile da 1,40 euro a 1,60 euro al chilo Ancora molto consigliate per la loro qualità e la loro convenienza le patate con un prezzo che oscilla da 0,70 centesimi a 0,90 centesimi al chilogrammo e le carote a 0,90 centesimi Per quanto riguarda il settore ittico, sta per concludersi il fermo pesca sul versante adriatico e sta per iniziare su quello tirrenico Nel frattempo abbonda nei mercati la lampuga pesce tipicamente autunnale, conosciuto anche come pesce capone con prezzi convenienti che vanno da 7 euro a 9 euro al chilo Molto consigliato anche lo sgombro uno tra i pesci azzurri più economici che va dai 4 ai 6 euro al chilo all'ingrosso Infine, tra le carni, la bassa richiesta di carni di scottona e vitellone fa rimanere ancora stabili i prezzi dei tagli più pregiati in particolare oscillano tra gli 8,95 euro e i 9,35 euro al chilo i prezzi all'ingrosso dei tagli del quarto posteriore di scottona e dagli 8 euro agli 8,40 euro al chilo i tagli del quarto posteriore di vitellone E' tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia E' tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia